In generale la vedremo al Gay Pride quindi qui a Milano? Ci sono già stato, lo sa? In incognito? No, a Roma. Correva l'anno 2006-2007. Ma era sul carro vestito da queer? No, ero con un'amica che mi ha fatto fermare a Piazza San Giovanni e siamo andati insieme a vedere il Gay Pride. No, tizia, non in uniforme quindi? Certamente, non ero in uniforme, anzi penso che fosse estate. Quindi ero in pantaloncini corti con questa mia amica e ci siamo fermati al Gay Pride e l'abbiamo visto. Ma cosa vuol dire orientare?